I 5 Stelle che con il capogruppo al Senato Sant'Angelo non escludono una mozione di sfiducia contro Gentile. Il governo delle lobby è diventato anche quello dei conflitti di interessi e della censura più pesante alla libertà di stampa. Con Renzi siamo all'epilogo del sistema dei partiti. Il prossimo sarà un governo dei cittadini e quindi un governo a 5 Stelle.